La Naomi's Band e tutto il locale vi danno un caro roso benvenuto a questa serata che si annuncia fantastica! Perché sarà fantastica? Ma perché ci siete voi! Ehi carico! Palla al barracuda! Hai già fatto polpa? Ma chi? Quello! Scusami! T'avevo preso per un cameriere! Scusa! No ma di che mi piace niente di male, signora! Come signora? Signora a me ma mai visto? Non è che ti serve un passaggio per caso? Però ho il furgone! Non ce l'ho mai salita su un furgone! Poi Oscar Wilde diceva la stessa cosa tua perché diceva che la felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare quello che uno ha! Bella! Mi è piaciuta! Non so chi sia su Oscar Wilde ma io qua dentro gli farei far capo cameriere! La mossa già i progetti che ha, i sogni che fa... Lo sai in quale guaio ti stai per cacciare, vero? Se vedo che baci un altro io l'ammazzo. Tu si rammarò, tu si rammarò, tu si rammarò... Guarda dintorno, guarda quanti uomini c'è stanno! Qua seccoli che c'ha che non va? C'è pure un bel lavoro, far centralista all'Inps. E' un lavoro! Tre giorni a settimana, dalle 18 alle 3 del mattino, senza pausa, paga bassa, mance poche, niente contratto. E i contributi? Pagate? No. Vabbè che se ti va male come cameriere puoi sempre ripiegare sulla laurea, però siamo ottimisti, eh? Io invece sono fortunato. Cazzo Sebastiano! Io ti sto scaricando e tu fai il premuroso! Ma fa qualcosa, mandami a cacare! Perché dopo ci sarà un cambiamento, un cambiamento importante, vedi simbolizzato dalla carta della morte. Quindi la morte non è la morte? No, questa è la morte come rinascita, come cambiamento, no? No, questa è la morte.